Buongiorno, ricordo quando ero studente di medicina degli ultimi anni di aver sentito Giulio Maccaccaro dire non bisogna far ricerca sull'uomo ma bisogna far ricerca con l'uomo. E mi ricordo che da studente questa frase mi aveva colpito perché mi sembrava che quel cambio di preposizione fosse insieme folgorante e troppo semplice. Folgorante perché a me, almeno che mi aprivo a questo mondo, che poi avrei conosciuto meglio una volta laureato frequentando gli ospedali, mi sembrava che fosse un'apertura verso un modo completamente diverso di concepire la ricerca. Ma mi sembrava troppo semplice perché mi chiedevo, ma sì, certo, ma come? Come si possono realmente coinvolgere alla pari i pazienti che partecipano a uno studio? E devo dire che recentemente, fra l'altro siamo nel trentesimo anniversario della morte di Giulio Maccaccaro, sono passati trent'anni ma quella frase resta assolutamente d'attualità e ancora tutta da esplorare. Certamente non abbiamo più oggi quelle violazioni sistematiche, ma proprio dei diritti elementari che Maccaccaro denunciava negli anni Sessanta, cose assolutamente obrobriose che venivano fatte su pazienti ricoverati e anche su bambini. Io stesso negli anni Settanti negli ospedali milanesi non ho visto cose di quel genere, ma vedevo sistematicamente però fare delle ricerche con assoluta indifferenza al fatto che il paziente fosse non solo d'accordo, ma neanche informato che stava subendo una ricerca. Ricordo di avere sollevato l'obiezione etica a un esperimento di chirurgia sul ganglio stellato dopo l'infarto e la risposta che ho avuto è ma nessuno ti ha chiesto di partecipare. Certo oggi non si fanno più cose di questo genere, oramai il consenso informato è diventato una prassi consolidata, per far cosa? Per reclutare o assoldare, vedo Gaia Marsico che sorride perché abbiamo condiviso questa osservazione anche recentemente, cioè per fare il termine militaresco, reclutare o assoldare, secondo me dice tutto, dice tutto di come viene concepito il ruolo dei pazienti che partecipano, che non vengono coinvolti ma reclutati o assoldati e che sempre più spesso anche un po' forse in maniera inconfusa comprendendo si rifiutano anche poi di venire reclutati o assoldati. Comunque oggi il consenso informato bene o male è diventato una pratica consolidata, però quello che ci dicono le ricerche in tutto il mondo è che alla fine quello che hanno in testa i pazienti che partecipano ancora oggi è che fanno qualcosa che può servire a loro per guarire. L'endpoint è uno solo, guarire, non se ne concepiscono altri, e l'endpoint guarire riguarda chi partece. Nell'80, 70, 80% dei casi di questionari fatti la risposta è questa. Questo è sicuramente un inganno, lo sappiamo bene, ma non è il problema maggiore, perché credo che sarebbe facile spiegare bene che la ricerca, si partecipano a ricerche soprattutto su base di solidarietà nei confronti dei pazienti futuri che potranno essere curati meglio. Il problema è poi far capire, cioè che veramente questa solidarietà dia dei frutti e essere trasparenti sulla rilevanza. Il problema oggi è molto più sottile delle prevaricazioni che denunciava Macaccaro. Il problema oggi è che molta della ricerca che viene fatta, se i pazienti sapessero bene a cosa serve e quali risultati può portare di conoscenza, non parteciperebbero consapevolmente, probabilmente. Comunque, ecco, volevo semplicemente, non voglio dilungarmi, perché su tutti questi aspetti che ho solo rapidamente accennato verranno analizzati singolarmente nella mattinata che stiamo per affrontare. Quindi darei subito la parola a Paola Mosconi per presentare intanto i risultati di un questionario che è stato condotto proprio all'interno del progetto Partecipa Salute.